Eccoci qui ragazzi, sono Goldrake e come ho detto ragazzi oggi siamo qui in un nuovissimo video Oggi ragazzi sono in una cattura creata da me per il suino Ragazzi spero vi piaccia, secondo me è uno spettacolo No io la voglio io, la voglio io Ok c'è anche Fergix Ok grazie mille che è una volpe E raga saluto tutti quelli che sono entrati Malatore, Elisio e Fergix che è una volpe tra l'altro quindi grandissimo Intendo con il completo da volpe Quindi grande Fergix, adesso andiamo piano e cerchiamo di andare a consegnare Ragazzi spero davvero che vi piaccia questa attività Direi di fare un attimo la fila anche perché adesso Elisio sicuramente non ce la fa andare Quindi aspettiamo che salga Ok ce l'ha fatta, sì Perfetto, noi andiamo piano Che tanto nessuno ci sta inseguendo Perfetto, no ha distrutto un veicolo Come possibile raga? Ma cos'è quello? Vabbè ho pestato qualcosa raga Non so neanche io cosa fosse Però adesso andiamo verso la consegna della nostra auto Che è l'Ardent Non vorrei dire una cavolata O ce l'ha Tardent Ok perfetto Allora qua direi una bella miniatura Ok con la nostra volpona cattiva Allora occhio qua Ecco lo sapevo che si sarebbe bucata una bella ruota Andiamo andiamo dentro il nostro tunnel Raga spero vi piaccia questa attività davvero C'è il link in descrizione Se volete giocarla Allora vai Ok salva Perfetto E adesso ragazzi siamo sugli hamburger Guardate che spettacolo questa parte Saltiamo Ok Perfetto Tra l'altro raga le ruote stranamente Sicuramente non si sono distrutte del tutto Nonostante abbiamo attraversato più spuntoni Allora vai 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 Ok Aspettate Mi dà fastidio non avere distrutte niente Quindi distruggiamole No non si vogliono distruggere Ok infatti Niente appena detto si sono distrutte No perché così almeno raga è giusto così Far la cattura in questo modo è giusto Allora qua andiamo Perfetto Ci siamo ragazzi Vai 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 Bucchiamo le ruote Occhio quelle davanti Ok non si sono fatte niente Anche perché sono bucate Ma probabilmente non sono esplose Quindi adesso ragazzi andiamo Occhio qua che la nostra ardent sgomma Non poco Ok 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 Allora adesso abbiamo tre salti da affrontare Affrontiamo il primo Perfetto Primo passato ragazzi Adesso passiamo di qua Vai 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 Perfetto Ci siamo ci siamo Comunque ragazzi vi lascerò magari una scheda in alto a destra O nella community Mi raccomando seguite i post che metto Per chiedervi ragazzi quanti video volete A settimana Però mi raccomando voglio il supporto ragazzi Allora vai 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 Ok mamma mia vai vai Ci siamo Ci siamo ragazzi Fattichiamo ad andare con quest'erwot Io ho rischiato eh Io ho rischiato E adesso ragazzi ci siamo Perfetto Andiamo a consegnare la nostra ardent cromata Tra l'altro spettacolare il colore E adesso ragazzi ci suicidiamo Respawniamo E cerchiamo di farlo un'altra volta Di andare a consegnare Per la seconda volta Intanto gli altri si stanno trollando Suicidiamoci Ok E adesso ragazzi Respawniamo Ok ragazzi Guardate come si respawna Si respawna con la moto E adesso voglio controllare Un attimo Cosa stanno facendo qui Cosa stanno combinando gli altri Ma dove siete Ok qua c'è malatore Allora io Cambierei Prendiamo quella rossa Perfetto Spettacolo Quella rossa raga Dove sta Elisio No no malatore Tu prenditene Una Che io Mi prendo la mia Allora vai 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 Ok Ok Piano piano Dobbiamo prenderlo in piano Adesso Anche tutti gli altri Hanno un veicolo Non sparate Mannaggia voi Però Ecco Appunto Non sparate E mi stanno appunto Colpendo Ok Ma io Me ne voglio Andare Assolutamente Via Che qua Mi stanno già trollando Chi è Ah Elisio Grandissimo Elisio Allora vai 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 Ok Non mi sono esplose Le ruote Sono bucate Però Sono Bucate Adesso qua Si buca No stranamente Ok Occhio Occhio Ok qua Si vede che comunque Non sono al massimo Le ruote No Mamma mia Elisio Mi stavi trollando Eh Mannaggia Non mi trollare Non mi trollare Ok Perfetto Io me ne vado Guardate con quale velocità Me ne sto andando Perfetto L'abbiamo distaccato un po' Perché Mannaggia lui Mi vuole trollare Le ruote Guardate Non si bucano Ok Ok tra l'altro Si è trollato Elisio E questo è il karma Ragazzi Questo è il karma Ok Adesso Adesso si Adesso si Si sta Si sono tutte Mi sa bucate Ma nessuna Esplosa del tutto Non lo so Raga Non lo so Ok Perfetto Ci siamo Adesso andiamo 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 Che stiamo andando Assolutamente bene Ok Perfetto Raga Vai saliamo qui A volte raga C'è Proprio si distruggono Le ruote A volte Esplodono E restano così Guardate Ma non so perché C'è davvero strana Come cosa E comunque Siamo stati fortunati Che non sono Non ci hanno trollato Al massimo Perché Mannaggia Elisio Ci voleva trollare Alla grande E per fortuna Siamo passati Adesso Ci suicidiamo ancora E cerchiamo di consegnare Il terzo punto Dato che nessuno Oltre a noi Ha consegnato Quindi Dai suicidiamoci E andiamo a cercare Di consegnare Anche se mi piacerebbe Che qualcun altro Consegnasse Stavo dicendo Ragazzi Mi piacerebbe Che qualcun altro Riuscisse a consegnare Perché Comunque La cattura è mia Ed è giusto Che gli altri Riescano a consegnare Adesso vediamo Se ce la Possono fare Allora Vediamo Cosa scendere Quella bianca Ma si dai Prima cromata Poi rossa E adesso Una bella Macchinina bianca Ci sta Guarda la volpe Come esce Per chiudere La portiera Proprio che gli da fastidio Occhio eh Occhio che qua Le ruote Le vedo belle A rischio Occhio Occhio Sentite il rumore Che fanno Perché Comunque Non sono Piene Ok 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 Perfetto Mamma mia Qua ci stavano Trollando Allora Occhio perché Potrebbero fare Due punti Loro così Perché Tutti e due Stanno andando Verso La consegna Quindi noi cerchiamo Di non farle Consegnare Allora vai 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 Qua abbiamo la volpe Fergix Grandissimo Quindi vai 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 Spettacolo Spettacolo A me raga Piace un sacco Ok Che è mia Però Comunque mi piace Davvero tanto Allora qua Andiamo Ok Salvata la clip Vai vai Volpe Non aver paura Non aver paura Che qua sotto Ti vengono a prendere Ok Perfetto Ti vengono a prendere Nel senso che C'hai un posto Dove ripararti Non ci posso credere Si è trollato Fergix Si è Trollato Fergix Mannaggia Doveva prendere Un po' di rincorsa Ed è stato Trollato Il mio compagno Invece non è Mai riuscito a concludere Peccato raga Tanto qua Saltiamo Ok Vai vai Salta 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 Anche con le ruote Bucate raga Siamo Belli cattivi Vai 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 raga Ok Qua dobbiamo fare Poi i tre salti Grandissimo Elisio che ha consegnato Vediamo se Vuole aspettarci Vediamo subito Adesso andiamo qua Vai 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 Cerchiamo il salto Il salto Il salto Ok abbiamo Un minuto e trenta Non penso Lui voglia cercare Di rifarlo Ok no Invece si Si è suicidato Ma probabilmente Non c'ha più Il tempo Per andare a consegnare Quindi ragazzi Andiamo qua Con la nostra Ardent Vai 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 Accelera 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 Ok Comunque ditemi raga Com'è questa cattura Scrivetemelo Nei commenti Come ho già detto Se volete scaricarla Link in descrizione Mi raccomando Giocatela Che secondo me È davvero divertente Perfetto ragazzi Ci siamo Tra l'altro C'è ancora Il Come si chiamano Le granate a gas Di Elisio E adesso ragazzi Abbiamo consegnato Guardate che spettacolo Mamma mia Eccolo là Quel tunnel Raga Di bibite Secondo me È una cosa Spettacolare Siamo 3 a 1 Quindi penso Che amiamo La vittoria In mano Ci suicidiamo Vediamo magari Di dar fastidio A qualcuno Adesso vediamo Cosa fare Vai Suicidiamoci Ok ragazzi Ci siamo Allora Mancano 20 secondi Quindi non si può fare Più di tanto Ma cosa Liscio qua Perché stavo Lisciando Tutto Ok Vai 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 Sali Fergix Sali 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 Salete Salite Guardala la volpe Grande volpe Eccolo lì Grandissimo Grandissimo Anche Fergix Grandissimo Anche Lisio Vincitore Ragazzi Io spero Che questa cattura Vi sia piaciuta Mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi Se non siete iscritti Mi raccomando Attivate la campanellina Che è importantissimo E noi ci vediamo Al prossimo video Bella